Allora ragazzi chiariamo una cosa, le connessioni tra la psicologia umana e l'intelligenza artificiale io qua me le vado proprio a cercare perché è proprio quello che intendo evidenziare. Io su questo canale cerco di portare un approccio multidisciplinare tra la psicologia cognitiva e quindi le neuroscienze e l'intelligenza artificiale alla scoperta delle differenze e delle somiglianze che ci sono tra le reti neurali biologiche cioè noi e le reti neurali artificiali cioè loro. Questa cosa a volte sembra che dia fastidio in particolare agli esperti di informatica però dal mio punto di vista persone che io naturalmente rispetto però dal mio punto di vista mantenendo questo parallelismo tra i due tipi di reti neurali noi nell'essere umano abbiamo il medico lo studioso di fisiologia che si occupa di studiare il funzionamento meccanico del corpo umano e poi abbiamo lo psicologo che invece si occupa di studiare quei fenomeni emergenti che si risolvono nella cognizione dell'essere umano e quindi tutte le patologie e tutto quello che gira intorno a questo campo. Nel caso dell'essere umano la cosa è pacifica i due campi d'azione non hanno attriti di alcun tipo e anzi sono anche dei punti d'incontro come per esempio nel caso della psichiatria. Invece per quanto riguarda le macchine gli informatici in generale ritengono di essere gli unici e soli depositari del funzionamento di quelle macchine e va bene certamente per quanto riguarda il funzionamento algoritmico e meccanico di questi corpi artificiali. Tuttavia non è Vicky Wen che sostiene che da queste macchine esistano dei fenomeni emergenti. Ci sono dozzine di paper, si studia a livello universitario, a livello scientifico il fatto che esistano dei fenomeni che queste macchine sono in grado di fare, esistano delle cose, dei compiti che queste macchine sono in grado di svolgere senza che siano state programmate per farlo. Ci sono diversi esempi di questo e dal mio punto di vista, qui entra un po' la mia opinione, si stanno sviluppando dei fenomeni cognitivi certamente ridotti rispetto al fenomeno cognitivo umano che è molto più ampio. Fenomeni cognitivi però che sono estremamente interessanti da studiare, a me piace tantissimo, ve l'ho già detto, conversare con queste macchine e non è la prima volta che mi definisco un po' lo psicologo delle macchine perché è interessantissimo esplorare quello che queste macchine elaborano, non usiamo il termine pensano perché non pensano, però è molto interessante vedere il modo in cui queste macchine elaborano le informazioni producendo dei fenomeni semantici, su questo non c'è alcun dubbio e su questo canale io spesso è di quello che parlo, quando nell'ultimo video parlavo della formazione delle opinioni io parlavo specificamente delle opinioni che sono un fenomeno semantico che emerge da quello che c'è sotto, per cui è chiaro che poi quello che dico a volte è divisivo, è controverso, è polarizzante, persone magari che sono d'accordo, altre che mi prendono a male parole dicendo che non ho studiato e non conosco il funzionamento delle macchine, beh io so quello che mi è sufficiente sapere, poi non mi interessa più di un tot perché il mio campo di studi invece è proprio lo studio di quel fenomeno semantico che emerge da qualunque cosa ci sia sotto. Ok, ci ho detto che secondo me era una precisazione dovuta e anche secondo me interessante, così capito un po' di che cosa stiamo parlando. Ci ho detto, dicevo, ora mettetevi seduti, prendetevi una tazza di tè perché va in onda il prossimo episodio della serie Vicky Wayne contro i mulini a vento perché di nuovo io mi metterò a dire delle cose che vi daranno fastidio, delle cose che urteranno le vostre sensibilità, io già lo so, e però vanno dette sia perché sono molto interessanti sia perché sono cose che a me piace condividere sia perché non sono il solo a dirle. Lo spunto per questo episodio di Vicky Wayne contro i mulini a vento nel quale parleremo del libero arbitrio mi viene da un libro strepitoso che è uscito, che è questo, vi metto poi magari però in sovrimpressione. E questo libro scritto da uno degli scienziati più influenti nel suo campo, uno degli scienziati più influenti al mondo nel suo campo sostiene che l'essere umano non è dotato di libero arbitrio. Vediamo chi è questo signore, già lo so, che mi starete odiando, chi alla fine apre internet e si trova sto scemo che deve dire queste cose fastidiose, che vanno proprio ad attaccare il nostro privilegio. Noi siamo i soli che sono in grado di pensare, i soli in grado di ragionare, i soli in grado di scegliere. E beh, tutte queste cose vengono una per volta attaccate dalle scoperte scientifiche e noi dobbiamo farci pace. Questo signore, che è questo qui, è uno scienziato di Stanford e dopo decadi, decenni di studi conclude che noi non abbiamo il libero arbitrio. Questo non è uno scappato di casa, non è Vicky Wayne che parla, questo ha studiato i primati per 40 anni e se andiamo a vedere il suo profilo a Stanford non è un antropologo o un filosofo, questo è un professore di biologia, un professore di neurologia, un professore di neurochirurgia. Ora, naturalmente ci sono tante cose che potremmo dire, però poi questo libro è così denso, è così impegnativo, 500 pagine di roba, ripeto, cerchiamo di trovare un punto da cui cominciare. Lui fa l'esempio del dito quando preme il grilletto di una pistola. Naturalmente quello è l'attimo che cambia, che fa tutta la differenza, che cambia un'esistenza. Lui dice ragioniamo a ritroso, individuiamo, lui parla dei tre neuroni e mezzo, per scherzare, individuiamo comunque quel gruppo di neuroni che è quello che ha inviato quel segnale che poi è sceso lungo il corpo e ha detto al dito di piegarsi e quindi premere quel grilletto. Quel gruppo di neuroni non è lui naturalmente che ha preso una decisione, però è l'esecutore. Il dito è proprio il sicario finale, però il neurone è quello che ha dato l'ordine al dito. E quel gruppo di neuroni come l'ha presa questa decisione? C'è stato un principio metafisico? Ritorniamo al principio metafisico? Bene, può darsi, è un'ipotesi. Allora noi facciamo questa ipotesi e la dobbiamo falsificare, dobbiamo cercare di vedere se le cose stanno veramente così. Il fatto è che quei tre neuroni che hanno dato quell'impulso elettrico non stanno, sai, nello spazio isolati, nello spazio profondo tra i pianeti, ma stanno immersi in una, tra virgolette, gelatina insieme ad altre decine di miliardi di neuroni. E allora dobbiamo capire come hanno fatto, a un certo punto, questi neuroni a dare questo impulso elettrico, a scaricare questo impulso elettrico. Andiamo a vedere come funziona il neurone e vediamo che il neurone, perché possa scaricare, deve a sua volta aver ricevuto un impulso elettrico. E l'intensità di questo impulso elettrico che ha ricevuto deve aver superato una determinata soglia di attivazione, superata la quale il nostro neurone allora trasmette a sua volta l'impulso elettrico fino al prossimo neurone e così via. E quindi questi tre neuroni non avevano fatto nessuna scelta, in realtà erano stati spinti, diciamo, a produrre questo impulso elettrico da dei neuroni che c'erano stati prima di loro. E questi altri neuroni, prima dei nostri tre neuroni incriminati, dove stanno? Nello spazio vuoto? Stanno lì isolati tra i pianeti? No, stanno nella stessa gelatina neurale nella quale stanno immersi anche quei tre. E a loro volta questo secondo gruppo di neuroni ha ricevuto un impulso elettrico da un altro gruppo di neuroni e così via. Andando a ritroso probabilmente a un certo punto arrivi a qualche neurone percettivo, per esempio quello sulla retina degli occhi, che ha generato una visione in qualche modo, ovvero ha preso i fotoni, sono stati eccitati dai fotoni, che hanno generato un impulso elettrico che ha corso lungo il nervo ottico, è arrivato alla fine alla corteccia visiva, che l'ha interpretato magari come un pericolo, e allora tu hai sparato per difenderti da un pericolo, ma magari no, magari quel pericolo non c'era, magari quei neuroni prima o poi andando a ritroso avevano incontrato altri neuroni che stavano rappresentando dei pensieri, che stavano rappresentando dei ragionamenti, catene di pensieri, catene di ragionamenti, vedi come tornano i termini, e magari quelli rappresentavano la tua visione del mondo, la tua visione politica, se sei di destra o se sei di sinistra, rappresentavano le tue credenze, ma perché si erano formate quelle credenze? Ancora più dietro c'erano stati altri neuroni che erano stati eccitati da qualcos'altro, per esempio da quello che avevi mangiato la mattina a colazione, o da quello che, non lo so, dall'incubo, dal sogno che avevi fatto quella notte, o ancora più indietro dalla ragazza che ti aveva lasciato, o andando ancora più indietro quando eri bambino, le violenze che avevi subito da piccolo, dai bulletti della classe, o ancora più indietro quando eri una cellula, ancora più indietro quando eri nella pancia di mamma, quando tua madre era incinta di te, i suoi umori, ancora più indietro, i geni che essa stessa aveva ricevuto dai suoi antenati, e poi ancora più indietro, e non si arriva a una causa, ed è così, scientificamente è così, non si trova un neurone che a un certo punto scarica da solo, non c'è un neurone primario, non c'è un primo impulso che viene scaricato e che poi dà vita a tutta una serie di cose, non c'è, non c'è, quindi non si riesce in alcun modo a inserire all'interno di questo meccanismo un principio metafisico. Sostanzialmente qualunque sia la scelta che noi prendiamo in questo momento, io per esempio in questo momento potrei scegliere di prendere le mie cuffiette, queste sono le mie cuffiette, però il fatto è che io ho scelto, tra virgolette, di prendere queste cuffiette perché queste cuffiette erano lì, perché erano lì, perché ce le avevo messe io, perché le avevo messe là, perché stanno vicino al caricatore, perché stanno vicino al caricatore, perché la presa da corrente sta là, cioè, vedete, in generale il macrocosmo è una sequenza ininterrotta di cause ed effetti, qualunque sia lo stato di un oggetto nello spazio, quello stato è un effetto di una causa che l'ha preceduto, punto e basta. E se questo è vero nel macrocosmo, tanto più è vero nel microcosmo, i neuroni non sono altro che un ingranaggio che sta dentro un meccanismo e tutto questo è deterministico nella misura in cui è meccanico. Alla luce di tutto questo e di milioni di altre evidenze scientifiche, io potrei velocemente nominare quantomeno Libet, molti di voi conoscono Libet, Libet è un altro neuroscienziato, anche lui molto influente, molto citato quando si parla di libero arbitrio, perché ha fatto una serie di esperimenti molto interessanti, nei quali si vede che alcune zone del cervello vengono preattivate prima che noi siamo coscienti di aver fatto una scelta, come se il cervello avesse già scelto prima che noi abbiamo giustificato, abbiamo verbalizzato quella scelta, prima che noi siamo in grado di dire sì, ho fatto la scelta, in realtà il cervello l'aveva già fatta quella scelta. Ora, quelli di voi che conoscono Libet mi verranno a dire che lo stesso Libet in realtà poi quando ha commentato questi suoi esperimenti non ha dato questa interpretazione, lui stesso sostiene che questi potrebbero non essere degli esperimenti che vanno contro il libero arbitrio, però il fatto è che questi esperimenti sono stati poi ripetuti in varie parti del mondo e invece gran parte della comunità scientifica li interpreta così. Quindi il dibattito da una parte è aperto, però dall'altra viene anche un po' da dire, guardando la situazione, che chi insiste nel difendere il libero arbitrio in realtà lo fa per credenze, opinioni o convincimenti religiosi. Questo è il problema, perché poi alla fine le evidenze scientifiche vanno tutte in quella direzione. Anche la semplice osservazione del fatto che il corpo è un meccanismo in tutte le altre funzioni che svolge. Cioè se io mi rompo un braccio, lo tratto come un meccanismo. Se ho una malattia, mi viene data una medicina, questa medicina funziona in modo meccanico. Cioè io so che il corpo avrà una reazione a quella sostanza che io, a quel principio attivo che io ti do e quindi questo innescherà il meccanismo della guarigione. Quindi io tratto il corpo umano come un meccanismo determinato in tutti i casi, tranne che, secondo alcuni, quando invece parliamo di coscienza e libero arbitrio. E questa cosa, secondo Sapolsky, finirà perché la scienza è chiara in merito, malgrado le opinioni e le credenze religiose, la scienza è abbastanza chiara in merito e lui dice che, a parte che un mondo in cui l'essere umano si è liberato del libero arbitrio, secondo lui è auspicabile, ma questo è discutibile. Però il fatto è che noi in passato, non so, credevamo che l'epilessia fosse il risultato del possedimento demoniaco. Noi vedevamo le persone che si contorcevano, che emettevano strani suoni e per noi, per le persone dell'epoca, quello era l'evidenza della possessione demoniaca. e non è che noi oggi non vediamo più l'epilessia. Se un fenomeno esiste, noi continuiamo a vederlo. Il problema è che abbiamo imparato ad interpretarlo nel modo corretto, abbiamo smesso di credere che quel fenomeno fosse la possessione del demonio. La stessa cosa, secondo Sapolsky, ma anche secondo me, dovrebbe avvenire, e molto probabilmente avverrà, con il libero arbitrio. Noi continueremo ad avere questa sensazione di poter prendere delle scelte, di poter effettuare delle scelte, delle decisioni. Però impareremo col tempo a interpretare questo fenomeno nella maniera corretta, cioè come va interpretato. Ora, questo fenomeno però non è lineare, perché allora molti di voi adesso staranno sicuramente pensando tutta una serie di cose. Il problema è che questo fenomeno non è lineare. Io, come ho già detto altre volte, interviene la probabilità. Questo è un meccanismo di tipo probabilistico. Perché è probabilistico? Perché gestisce l'incertezza. A differenza di un software tradizionale però, un software tradizionale come Windows o come Excel, che non gestiscono l'incertezza, il cervello umano e le reti neurali artificiali sono in grado di gestire l'incertezza. E questo le rende poco intuitive. E' questo che poi ci dà quell'illusione che vengano effettuate delle scelte. Perché nei vari passaggi che portano allo sviluppo di queste emergenze semantiche interviene la probabilità. Quando un neurone riceve un impulso elettrico e arriva con una probabilità vicina al 50% di superare o non superare quella soglia di attivazione, naturalmente intervengono tutta una serie di altri fattori che trasformano questo procedimento da lineare a probabilistico. Ed è la combinazione di queste miliardi di probabilità che una cosa avvenga o non avvenga all'interno del cervello umano, sto dicendo, che rende l'essere umano imprevedibile dall'esterno, dall'esterno. Naturalmente servirebbe il demone di Laplace per conoscere lo stato di tutti i neuroni di un sistema biologico per poterlo prevedere. Però siccome questo non è fisicamente possibile, è e resta imprevedibile un sistema biologico. Ma la stessa cosa cominciano a fare anche questi sistemi di intelligenza artificiale. Anche nelle reti neurali artificiali interviene la probabilità e questo gli dà un certo grado di imprevedibilità. Addirittura noi le chiamiamo black box queste intelligenze artificiali. Però sapete che cos'è che chiamavamo black box prima? La mente umana. La mente umana è un black box perché io so l'input ma non sono in grado di prevedere l'output. Cioè non sono in grado di prevedere l'elaborazione che avviene dentro quella macchina. Anche se io posso prendere un cervello post-mortem e studiarlo, farlo a fettine, studiarlo al microscopio so perfettamente come funziona il cervello. Ciò non di meno io non sono in grado pur conoscendo l'input di prevedere l'output. Ed è questo che poi rientra nel discorso del libero arbitrio. Perché se io chiedo dieci volte la stessa cosa a ChatGPT è possibile che ChatGPT dieci volte mi dia dieci risposte diverse. Proprio come fa l'essere umano. Poi dipende da che cosa gli chiedi. Chiaramente se gli chiedi la ricetta della carbonara la ricetta della carbonara è abbastanza fissa. È quella. Però se io chiedo a ChatGPT di spiegarmi, non lo so, raccontami la seconda guerra mondiale è probabile che lui dieci volte diverse inizi il discorso partendo da eventi diversi. Poi certo la seconda guerra mondiale è quella però se la domanda è abbastanza ampia lui sembrerebbe avere la scelta di raccontarci questa seconda guerra mondiale ogni volta in modo diverso. Come se ci fosse una mente umana. Adesso voi starei dicendo ma quella è una simulazione. Certo simulazione di cosa? Simulazione di cosa? Della mente umana? Sì ma perché noi sappiamo che cos'è la mente umana? Come facciamo a simularla? In realtà quello sta semplicemente facendo la stessa cosa che fa la mente umana. Perché se io lo chiedo a una persona umana a dieci persone umane o a la stessa persona in dieci momenti diversi della giornata quella magari mi dà dieci risposte diverse. Ma perché? Perché l'essere umano è creativo e allora anche la macchina è creativa perché il meccanismo che genera quella creatività è lo stesso. Poi lo so che naturalmente da una parte ci sono degli algoritmi che stanno simulando qualcosa dall'altra ci sono le cellule biologiche che stanno semplicemente funzionando secondo una serie di eventi a cascata nei quali interviene però il meccanismo probabilistico. Per cui un certo neurone una volta riceve una serie di segnali e quindi scarica il suo segnale elettrico ma la volta successiva lo stesso neurone potrebbe non scaricare quello stesso segnale elettrico perché? Perché sta in una gelatina dei altri miliardi decine di miliardi di neuroni che stanno subendo la stessa probabilità per cui un neurone non riceve un solo segnale ne riceve milioni per cui quel neurone riceve un segnale significa che riceve milioni di segnali li somma e se quella somma è sufficiente a superare la soglia di attivazione allora lui fa passare il messaggio in qualche modo comunque l'impulso nervoso altrimenti no ok ma questi milioni di neuroni che lui ha alle spalle subiscono a loro volta lo stesso lo stesso procedimento per cui ciascuno di loro potrebbe la prossima volta davanti allo stesso input scaricare o non scaricare perché è una roba talmente complessa infatti si dice assolutamente che è a causa della complessità che emergono delle nuove funzioni ok è proprio sulla base di questa complessità questa complessità a volte qualcuno dice che è una supercazzola non lo è non lo è perché in realtà interviene la probabilità per cui dato lo stesso input nello stesso sistema la volta successiva sono sicuramente cambiate le condizioni perché queste sono macchine che stanno funzionando per cui nel cervello umano io dieci minuti fa ero diverso da adesso se tu mi fai una domanda dieci minuti fa dieci minuti prima io ti rispondo in un modo dieci minuti dopo sono passati dieci minuti e quindi il mio cervello è cambiato ok non è più lo stesso cervello ovvero lo stesso cervello ma non è nello stesso stato è in uno stato nuovo perché sono passati dieci minuti ci sono delle formazioni nuove che sono state elaborate quindi quando tu mi ridai lo stesso input non entra nello stesso sistema entra biologicamente nello stesso oggetto ma quell'oggetto ha uno stato diverso e una cosa molto simile succede anche a chat GPT quando all'interno di una conversazione tu gli fai più volte la stessa domanda o anche aprendo nuove conversazioni gli fai la stessa domanda sono sistemi probabilistici e quindi in questo senso sembrano avere un qualche tipo di libero arbitrio ora voi mi direte ma veramente io non l'ho mai pensato che chat GPT potesse avere un libero arbitrio e ti invito a pensare meglio perché ti invito a considerare meglio che cos'è il libero arbitrio alla luce di tutto quello che abbiamo detto fino adesso e a vedere l'evidenza dei fatti cioè che alla stessa domanda ti risponde in maniera diversa ti risponde in maniera diversa sembra che abbia effettuato una scelta in realtà non ha effettuato una scelta né chat GPT né tu come essere umano tu adesso sceglierai di lasciare un commento qua sotto perché io te lo te lo sto dicendo quindi scegli di lasciare un commento fai tutto quello che deve fare uno fai tutto quello che dovete fare quindi mettete il like lasciate il commento condividete il video insomma aiutatemi a crescere io faccio tutto quello che devo fare in realtà tu questo commento non l'avresti lasciato se io non avessi fatto questo video e di nuovo c'è la causa e l'effetto tu credi di avere la scelta di lasciarlo di non lasciarlo tu credi di avere la scelta di scrivere o non scrivere e credi di scegliere che cosa scriverai sotto questo commento in realtà tu questa scelta non ce l'hai perché tu hai già un'idea pregressa di tutto questo discorso già ti eri fatto un'idea prima di ascoltare questo questo video hai cliccato su questo video perché hai pensato che fosse la tua scelta ma in realtà hai cliccato su questo video perché il titolo e la copertina di questo video l'argomento di questo video ti interessano ti interessavano già prima se sei arrivato fino a qua tutte queste mie parole ti avranno stimolato nuove riflessioni o avranno confermato le cose che pensavi o invece avranno contraddetto le cose che pensavi e questa è già una buona ragione per farti credere che stai scegliendo di venirmi a dire che io sbaglio ma il tuo stesso lasciare un commento è in qualche modo la conferma del fatto che non hai avuto scelta e ci ho detto io credo di poter finire qui questo video vi ringrazio per avermi seguito fino a qua e da parte mia naturalmente lunga vita e prosperità ciao